Pronto? 65, la mosca è in piatto. Grazie. Andiamo. E' cambiato di nuovo la temperatura della doccia. Ah, mi dispiace. Stamattina proviamo tale freddo. Scusa quel. Che ne dici? Dopo andiamo a tirare di spada? Perché no? E' molto che non andiamo in sala a dar la chiama aestro. E devi ancora dare l'opportunità di rifarmi dall'ultima volta. Eh, ne è venuto il tempo. Pronto, cosa buona? Oh, no, no! I prayers of theirs. Che ne s', dammente! Oh, no! no 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 No, 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 no! Sì, sì! No, no! 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 Mi dispiace ragazzi, è un assoluto inizio. Sous-titrage ST' 501